Il tema di questo incontro del Sinodo è la Chiesa che celebra il suo Signore. In poche parole è riassunto quasi tutto quello che serve per la Chiesa moderna, per affrontare il suo tempo. Non c'è dubbio perché questo culto di Gesù Cristo, il Signore, appartiene già alle prime ore del Cristianessimo e poi accompagna sempre la vita della Chiesa. È un'espressione fondamentale del rapporto tra i credenti e il Signore. Il Signore è in questione di Gesù Cristo. Gesù Cristo che occupa lo spazio dominante della vita dei Cristiani. L'occupa soprattutto in tre momenti, l'Eucaristia, il Battesimo, la vita battesimale e la testimonianza della fede. Proprio dalla testimonianza dovremmo ripartire perché Papa Francesco continuamente invita non soltanto i fedeli ma anche i sacerdoti, gli ufficiali, i ministranti a testimoniare la parola. Sì, è una richiesta direi naturale perché nel nostro tempo abbiamo bisogno sempre più di testimoni, di testimoni che sappiano trasmettere la fede. La fede, se veniamo da un anno della fede, la fede si trasmette soprattutto attraverso la testimonianza. Per questo uno dei tre ambiti fondamentali con cui la Chiesa celebra il suo Signore è la testimonianza. Cosa bisogna fare in questi giorni così travagliati, così difficili per esprimere appieno questa testimonianza? Direi recuperare sempre più l'essenziale sia dal punto di vista cristiano, ecclesiale, sociale, politico perché forse abbiamo conferito troppa attenzione all'accessorio, alle realtà che di fatto non hanno grande rilievo nella vita cristiana e nella vita sociale della Chiesa. Cerebrare il Signore anche nella difficoltà di questi giorni, proprio di queste ore, l'Istat che ha diffuso dei dati davvero allarmanti sulla disoccupazione. Eppure bisogna comunque celebrare il Signore? Bisogna celebrarlo soprattutto in questi momenti perché altrimenti tutti quanti, soprattutto i giovani, il Sud è preoccupante da questo versante, un giovane su due è in condizione di disoccupazione. Soprattutto in questi momenti bisogna celebrare l'unico Signore della nostra vita, altrimenti corriamo il pericolo di cadere in una forma di disorientamento totale, soprattutto per le giovani generazioni.